Il nostro sommato A Quarogli annuncia una ordinanza regionale contro gli assembramenti. Il governatore ne ha parlato in una lunga intervista trasmessa in diretta questa mattina su Fano TV. A Fano la polizia locale multa due ragazzi che non indossano la mascherina e un ristoratore per aver tenuto aperto il suo locale per il pranzo della domenica. Ristor Italia si scaglia contro Confcommercio di Pesaro. Ci hanno chiuso le porte in faccia, dicono i ristoratori. Reppli Cavarotti sono allibito, a noi nessuna richiesta. A Pesaro fa discutere il senso unico pedonale in centro. Per il sindaco l'esperimento è andato bene, un po' meno per i cittadini. Tra questi anche il ristoratore Carriera che è stato multato per aver percorso il centro a piedi contro Mani. Tra poco l'appuntamento del lunedì sera con i sindaci del territorio. In diretta su Fano TV ci sarà il primo cittadino di Fano, Massimo Serio. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Benvenuti sul canale 17 di Fano TV. Questo è il telegiornale. Questa mattina il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, in una lunga intervista telefonica trasmessa in diretta all'interno della rassegna stampa Occhio ai giornali, ha parlato di vari temi, della situazione relativa al Covid-19 nelle Marche e poi a un certo punto ha parlato anche di una ordinanza che avrebbe pronta contro gli assembramenti. Nelle Marche non c'è un problema sanitario, c'è lo stress causato dalla pandemia e dalla volontà di portare avanti tutte le operazioni programmate negli ospedali. Lo ha detto il governatore Francesco Acquaroli che questa mattina ha rilasciato una lunga intervista a Fano TV durante la diretta dedicata alla lettura dei quotidiani con ospiti in esterna e in collegamento. Il presidente della regione ha anche annunciato la stesura di un nuovo provvedimento anti-assembramenti. Stiamo pensando a un'ulteriore ordinanza perché riteniamo le ristrazioni della zona arancione restrizioni inutili al fine di abbassare la curva. Di fatto ieri gli assembramenti si sono verificati in decine di città della nostra regione, beh chiaro che rischiamo di penalizzare l'economia e non andare a risolvere il problema della sicurezza sanitaria. Acquaroli che aveva comunicato venerdì scorso la chiamata del ministro Speranza con il cambio di colore delle marche da giallo ad arancione si è detto amareggiato per il mancato confronto con il governo e con gli organi sanitari competenti. Quello che noi chiediamo è concertazione e logica perché dietro ai numeri ci sono delle realtà. Noi abbiamo un'alta percentuale dei tamponi nella nostra regione positivi semplicemente perché ad esempio rispetto a tutti i laboratori privati che fanno tamponi registriamo i positivi ma non registriamo tutti quelli fatti. Per non andare a togliere il senso al nostro contact tracing. Basterebbe fare come fanno altri che inseriscono nel conteggio anche il numero dei tamponi risultati non positivi per abbassare. Zaia lo fa continuamente, Presidente. Detto questo però voglio dire da chi dipende la scelta di non registrare nei laboratori privati anche quelli non positivi? Chi è che ha scelto questa scelta? Guardi, questa è una scelta che praticamente viene nella nostra regione e è sempre avvenuto così. Per questo il Presidente ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità se la regione debba conteggiarli o meno. Certo è che a portare le marche in zona arancione è stato l'indice RT riferito alla sola scorsa settimana pari all'1,55 con un calo del 10-11% dei sintomatici. Paradossalmente, ha spiegato Acquaroli, l'RT della settimana precedente che era pari all'1,01 avrebbe dovuto darci la possibilità di riaprire tutto e questo non è avvenuto. Il calcolo dunque non è più bisettimanale. Praticamente, ripeto, per un focolaio rischiamo di essere chiusi. Senta Presidente, a proposito di focolai, com'è possibile che dopo l'esperienza della prima ondata ancora nelle RSA siamo a discutere di focolai, di persone che si infettano? Non voglio pensare che ci siano assolutamente delle leggerezze da parte di che gestisce queste case di riposo. E anche indossando e avendo le massime precauzioni il rischio che il virus passi, capisce? A me piace essere prudente, ha poi dichiarato Acquaroli riferendosi all'andamento dei contagi e alla situazione sanitaria nelle Marche, ma voglio raccontare, ha detto, la verità dei fatti. Ci tengo a raccontare quello che è accaduto, come è accaduto e a far sì che si riesca a creare una coscienza collettiva affinché possiamo tutti uscire prima possibile da quest'incubo del coronavirus, da questa emergenza sanitaria che mette in pericolo la sicurezza di tante persone nella nostra regione e che rischia veramente di creare anche dal punto di vista economico dei danni impressionanti. Quindi è chiaro che più noi riusciamo a interloquire e a parlare tra di noi, più riusciamo a creare una coscienza rispetto a questo grave momento che stiamo attraversando. Per chi fosse interessato a tutta l'intervista, l'intervista integrale realizzata al Governatore delle Marche, può rimanere sintonizzato sul nostro canale 17, quindi in televisione, perché andrà in onda anche nel corso della serata e durante la notte, oppure andare sulla nostra pagina Facebook, Occhio alla Notizia. Allora, adesso invece vediamo l'aggiornamento relativo all'andamento dei contagi delle ultime 24 ore, naturalmente nella nostra regione. Intanto diciamo che si sono verificati 11 decessi, si tratta di 7 donne e 4 uomini di età compresa tra i 73 e i 97 anni, tutte queste persone con patologie pregresse. Tra le vittime ci sono anche un fanese di 88 anni ed un pesarese di 78. Nell'ultima giornata sono stati registrati 282 positivi su oltre 900 tamponi nel percorso nuove diagnosi. La provincia con più casi è quella di Ancona con 133, pesero 22 gli altri, li vedete nel cartello. Per quanto riguarda invece i pazienti in terapia intensiva, sono uno in più rispetto a ieri l'altro, ovvero 78, mentre quelli in semi-intensiva sono calati da 143 a 136. Dunque 7 persone sono rientrate o comunque hanno lasciato il reparto. Nel fine settimana la polizia locale di Fano ha multato due ragazzi che sono stati sorpresi senza la mascherina e un ristoratore che aveva tenuto aperto nel giorno di domenica il suo ristorante. Controlli a tappeto nel fine settimana per garantire l'osservanza delle misure anticontagio. La prefettura di Pesero Urbino fa sapere che le forze dell'ordine hanno eseguito oltre 1300 controlli, di cui più di 800 sulle persone 490 all'interno di attività ed esercizi commerciali. 16 sono stati verbali elevati. Dall'inizio della pandemia sono state sanzionate 2062 persone, 4 le denunce all'autorità giudiziaria e 12 gli esercizi chiusi. In questi ultimi giorni i fanesi sono stati abbastanza disciplinati, ma con alcune eccezioni. Lo ha dichiarato l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini, che questa mattina ha parlato di controlli e provvedimenti adottati. Sabato, ha precisato, si sono verificati numerosi assembramenti di giovani e adulti che hanno deciso di organizzare l'ultimo aperitivo in compagnia e pranzi nei ristoranti, in vista della chiusura prevista da ieri col passaggio delle Marche a zona arancione. Domenica, invece, sono scattate due sanzioni a ragazzi senza la mascherina e al titolare di un ristorante che, violando le ultime restrizioni imposte dal governo, ha alzato la Sara Cinesca e ha accolto i clienti, somministrando cibi e bevande. I servizi, ha spiegato invece la comandante Annarita Montagna, sono stati incentrati fino alla mezzanotte, sia nel centro storico di Fano che nei locali della periferia. Proprio ieri sera mi sono fatta mandare dal comando una foto della situazione del transito da telecamere e alle ore 23.15 in tutte le telecamere non c'era un veicolo in movimento. Il traffico è veramente pochissimo e quindi possiamo anche noi confermare che quel senso di responsabilità di cui è stato parlato dall'assessore, dal presidente Acquaroli, comunque l'abbiamo riscontrato. E l'assessore, oltre a sottolineare l'importanza delle telecamere installate nei vari punti della città, ha spiegato le azioni messe in campo per risolvere il problema dell'organico del comando locale. Abbiamo comunque allungato il contratto agli stagionali, stabilizzeremo nelle prossime settimane tre nuove figure che entreranno in organico in modo a tempo indeterminato ed abbiamo fatto negli ultimi settimani una graduatoria condivisa con il comune, con il comando di Ancona, per la messa in organico di tre nuovi ufficiali che dovranno arrivare nelle prossime settimane. Per cui questa è una risposta, nonostante le difficoltà anche di darla, che sarà significativa e avrà una vera e propria boccata d'ossigeno. La Cucchiarini ha poi affermato di non condividere l'ordinanza firmata da Ricci sul senso unico istituito nel centro storico di Pesaro, ma ha ribadito l'importanza della prevenzione e della sinergia tra le forze di polizia. Invece, sui fatti di Sant'Orso accaduti la sera di Halloween, le indagini sono ancora in corso per individuare tutti i responsabili degli atti vandalici. I controlli nel territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane e i trasgressori andranno incontro a molte sospensioni della licenza della propria attività. Le sanzioni sono le solite quelle previste già da marzo, sempre quella è la normativa di riferimento, il nostro DL19 è poi convertito in legge, 400 euro che poi diventano 280 se vengono pagati nei primi 5 giorni dalla notifica del verbale. Per le attività c'è in più anche la sanzione accessoria della chiusura, che va da 5 a 30 giorni. Ed è quella che poi abbiamo applicato anche al ristorante che ieri era aperto, quello di cui ha accennato l'assessora, perché effettivamente ha continuato la sua attività rimanendo aperto e servendo a clienti. E sempre nel corso della diretta di questa mattina, abbiamo ospitato anche alcuni rappresentanti dell'associazione Ristor Italia, che a un certo punto hanno lanciato pesanti accuse nei confronti della Conf Commercio e del direttore provinciale Amerigo Varotti. Secondo i ristoratori, Amerigo Varotti avrebbe chiuso loro la porta in faccia. Quella di ristoratori, bar e pubblici esercizi continua ad essere la categoria più colpita dalle ultime restrizioni volute dal governo. Oltre al malcontento per la decisione presa dal premier Conte, che con il passaggio delle marche in zona arancione ha costretto bar e ristoranti a chiudere fino al prossimo 3 dicembre, ora, da parte di una rappresentanza di ristoratori appartenente al gruppo Ristor Italia, arriva anche la stoccata alla Conf Commercio di Pesaro Urbino. Se la prende con il direttore provinciale Amerigo Varotti, Giorgio Andrea Ricci, presidente di Ristor Italia, che ha accusato lo stesso Varotti di averli abbandonati, nonché di essersi tirato indietro nel momento di richiesta di un incontro per tutelarli. Specialmente con alcune associazioni di categoria ci siamo trovati anche a richiedere un aiuto e sia noi, sia il nostro consulente Regnier, sia tramite anche il presidente Cecchini, che è il presidente degli albergatori, a chiedere un incontro al direttore Varotti, che in questo caso ci ha chiuso la porta in faccia. Come mai? Probabilmente questo ce lo diranno più avanti. Noi abbiamo chiesto più di una volta un incontro perché a un certo punto ci dovevano in qualche maniera tutelare come sindacato. Questo non è stato fatto, ci hanno abbandonati. C'è una mancanza in questo senso? C'è una mancanza e noi, il nostro malgrado, ci siamo costituiti, siamo circa 300 e siamo in crescita, siamo circa 300 associati e anche non cercando di fare il mestiere che fanno alla Confommercio, che noi non abbiamo nulla, però il direttore Varotti ci ha chiuso veramente la porta in faccia. Intanto Lorenzo Vedovi, portavoce Ristori Italia, annuncia ulteriori manifestazioni anche a livello nazionale per rimarcare la linea. Ci hanno cercato anche a livello nazionale, per questo ribadiamo con estrema qualità di presentazione dei fatti che noi non cadiamo in polemiche o in butarde come magari altri cercano di fare e se riusciamo a parlare con dei senatori della Repubblica lo vorremmo fare in Parlamento e presentare attraverso chi ci dà spazio delle emozioni di categoria. Non li ospitiamo a cena per fare una situazione conviviale, privata. Quindi questo deve essere la forza che traina un'associazione di categoria. E la replica di Varotti non si è fatta attendere. Resto sorpreso e allibito, ha detto il direttore di Confommercio. Non è stata fatta alcuna richiesta. Sentiamo. Direttore, questa mattina durante la nostra diretta l'attacco a lei personalmente, del presidente di Ristori Italia, Giorgio Andrea Ricci, che ha detto abbiamo chiesto più volte a Varotti un incontro e lui ci ha chiuso la porta in faccia. Che cosa risponde? Ma resto veramente sorpreso e allibito dalle dichiarazioni di Ricci perché nessuna richiesta è stata fatta alla Confommercio né al presidente dell'associazione provinciale Ristoratori, Mario Di Remigio. Gli ultimi contatti con Ristori Italia sono di questa primavera e dopo una serie di contatti su chat dei ristoratori abbiamo fatto un incontro in un ristorante di Fano dove abbiamo chiarito che la Confommercio ha già un'associazione ristoratori che rappresenta oltre 300 ristoranti nella provincia e che ovviamente siamo d'accordo e disponibili al dialogo con tutti gli imprenditori del mondo della ristorazione ma di associazione ne abbiamo già una. Ristoratori Italia dice di avermi chiesto recentemente incontri ripetutamente che io avrei sbattuto la porta in faccia. Assolutamente non vero. Noi siamo, io personalmente, sono disponibile all'incontro con chiunque. il telefono è libero, Andrea Ricci ha il mio cellulare, può chiamarmi o può chiamare il presidente dell'associazione ristoratori visto che le tematiche sindacali sono comuni. L'altra cosa che dichiara è che la Confommercio ha abbandonato il mondo dei ristoranti che non li segue sindacalmente e questa veramente è una falsità. Probabilmente alle spalle di Ristoritalia c'è qualcuno che ha interessi politici o di altra natura per dire cose del genere ma poi basta vedere la realtà. La realtà è che noi abbiamo portato in piazza mille persone anche il 28 di ottobre proprio con il mondo della ristorazione che l'associazione dei ristoratori e la Confommercio seguono costantemente le tematiche legate al Covid, al ristoro, alle iniziative a livello locale e nazionale. Giovedì scorso abbiamo incontrato il presidente della giunta regionale, Acquaroli e uno dei temi principali di richiesta di attenzione alla regione riguarda proprio il mondo dei ristoranti e dei pubblici esercizi oltre che del turismo in genere. Giovedì prossimo avremo un incontro con il vicepresidente nonché assessore all'attività produttive Mirko Carloni e il tema è sempre questo, il ristoro, cioè aiuto alle categorie economiche compresi i ristoranti che sono in difficoltà. Quindi onestamente sono rimasto sorpreso nel sentire questa dichiarazione di Ricci che poi dopo, sentivo l'altro ristoratore, abbiamo un dialogo proficuo con un'altra organizzazione perfetto, fanno bene, non c'è problema voglio dire, le associazioni sono aperte quindi qualcun altro non ha associazioni ai ristoratori come invece noi ce l'abbiamo per cui può essere che da cosa nasca cosa. Ho comunque telefonato subito al nostro presidente provinciale dei ristoratori che ha telefonato a Ricci e quindi gli ha detto che c'è la disponibilità nostra a incontrarci come c'è sempre stata peraltro una cosa è l'incontro, una cosa è il riconoscimento di un'associazione noi abbiamo già una per cui non possiamo riconoscerne un'altra però il dialogo, soprattutto in questi momenti di gravissima difficoltà per il mondo che noi rappresentiamo, è essenziale. L'ultima cosa, non bariamo sui numeri ho sentito delle dichiarazioni in queste interviste si parla di associazioni con tanti associati stiamo bassi, diciamo la verità. E intanto a Pesaro si è conclusa la prima sperimentazione che ha visto le vie del centro storico diventare a senso unico pedonale l'esperimento è andato bene, ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci non sono comunque mancati i trasgressori tra questi uno su tutti Umberto Carriera L'esperimento ha dato buoni risultati afferma Matteo Ricci, sindaco di Pesaro riferendosi alla sperimentazione che questo weekend ha coinvolto il centro storico della città siamo stati aiutati anche dal meteo non ottimale per uscire continua, abbiamo avuto flussi più regolari e meno assembramenti l'obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini e corso 11 settembre valido tutti fine settimana dalle 15 alle 20 però non è piaciuto a tutti i pesaresi non d'accordo con l'ordinanza sono quelli che abitano in centro e per cui ora fare commissioni vicino a casa si traduce in una lunga passeggiata per le vie secondarie nonostante l'intento del sindaco di non colpire ulteriormente il commercio inoltre tante sono state le lamentele dei negozianti a causa del calo delle vendite è dovuto anche dal fatto che oltre al senso unico si aggiunge anche la mancanza dei clienti provenienti da altri comuni c'è poi chi non comprende la segnaletica a terra e chi invece ignora i moniti della protezione civile e della polizia municipale e prosegue per la sua strada primo tra tutti il ristoratore ribelle Umberto Carriera che domenica è stato inseguito da due agenti della polizia dopo aver invertito il senso di marcia assieme ad una trentina di persone nella sua preannunciata passeggiata contro mano trasmessa in diretta su Fanotv ho invertito per forse 20 metri il senso di marcia per fermarmi un negozio che era le due passi sicuramente non si incentiva il commercio con le direzioni in centro storico anche perché siamo in una piccola città come Pesaro che penso non abbia bisogno di questo bisognerebbe incentivare il commercio locale e aiutare il più possibile spero che le istituzioni facciano le scelte giuste almeno per noi gli agenti della polizia lo hanno poi seguito fino alla macelleria ristorante dove si era tenuta la cena provocazione anti-dpcm organizzata da Carriera lo scorso ottobre dopo la passeggiata contro mano il ristoratore colleziona la sua quarta multa poi se arriverà una multa devo capire le motivazioni di questa multa e farei ricorso come per le altre? ovviamente faremo ricorso certo assolutamente assolutamente quei 400 euro o 280 euro se viene pagata nei cinque giorni avrò molto piacere a spendere nei negozi che vi ce l'ho e questo era il nostro ultimo servizio tra poco c'è Missione Salute poi in diretta il sindaco di Fano Massimo Seri con Primo Cittadino i numeri per intervenire e fare domande al sindaco li vedete in questo cartello è tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con Occhio ai giornali la rassegna stampa, arrivederci